Musica Allora, come si chiama lei? De Fazio De Fazio Regionalità per cortesia della signorina Francesco De Fazio nato a Serrate il 30 maggio 32 Scusi Presidente Allora può entrare Direttore dell'Istituto Vicenario di Unità di Modena Ma io se siete d'accordo la può stare Se non la parlo, se c'è opposizione Ma va fuori Per una questione di carattere pratico Predicare poi di rifare sempre le stesse domande Non so, però Allora, niente, puro fuori questo Bruno Scusi, continui lei per cortesia Salvatore Luberto Nato a Cosenza Nato a Cosenza Il 12-2-1939 Domiciliato a Modena Presso Istituto di Medicina Legale Giovanni Beduschi Nato a Casal Maggiore 8-8-1950 9-8-1950 Domiciliato a Modena Presso Istituto di Medicina Legale Ivan Galliani Nato a Carpi Provincia di Modena Il 20 gennaio 46 Domiciliato a Modena Presso Istituto di Medicina Legale Giovanni Pierini Nato a Firenze 24 giugno 50 Domiciliato Bologna Medicina Legale Allora, questa sia la formula dei periti Consapevole responsabilità morale e giuridica che assumo lo svolgimento dell'incarico mi impegno ad emperare il mio ufficio senza altro scopo di quello di far conoscere la verità e mantenere il segreto sulle operazioni peritari Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo lo svolgimento dell'incarico mi impegno ad emperare il mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e mantenere il segreto sulle operazioni peritari Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo lo svolgimento dell'incarico mi impegno ad emperare il mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e mantenere il segreto sulle operazioni peritari Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumono lo svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere il mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e mantenere il segreto sulle operazioni peritali. Il mio ufficio lo tenga uno e poi lo passate, secondo l'esame è stato richiesto dalla parte della difesa dell'imputato Vanni. Prego l'Avvocato Filastoro. Grazie Presidente. Grazie. Mi rivolgo generalmente a tutti voi. Il professor De Fazio, che sostanzialmente è il coordinatore dell'equipe di studio, è la prima domanda riguarda i termini ed i limiti della loro indagine. Voglio dire, se prima di tutto si è trattato un'indagine di tipo analitico oppure sintetico e quale fosse in particolare lo scopo di queste due analisi da voi svolte. Prima che qualsiasi persona venisse imputata in qualsiasi processo, cioè in un momento in cui gli inquirenti navigavano nel buio, che cosa vi venne chiesto? Qual era lo scopo e il tipo di metodologia a seguito? Questo è l'arma domanda. Posso rispondere, signor Presidente? Sì, chi risponde deve dare il più bel nome per la fine dell'altra scrizione. Bene. Sì, De Fazio. L'indagine che si è stata chiesta dalla Procura dei Provi di Firenze rappresentava nel panorama per Italia-Italiano la prima indagine di questo genere. Non soltanto nel tipo di delitti per i quali si parlava, ma in genere in campo medico-legale. Cioè si trattava di un'indagine volta a risalire, così l'abbiamo teorizzata allora insieme ai magistrati che ci hanno dato l'incarico, dalla tipologia delle vittime alla possibile tipologia dell'autore. Quindi un'indagine dell'autore o degli autori. Quindi un'indagine di tipo criminalistico. Però di tipo criminalistico è esattamente all'opposto di quella che è la concezione della criminalistica. Per cui si raccolgono tracce e poi attraverso la traccia si adebita questa traccia, non so, si raccolge una traccia e finisce la ricerca del DNA e si adebita questa traccia poi a questo o quell'altro autore. Qui si trattava invece di fare un esame accurato del tipologia delle vittime. Tipologia delle vittime significa a un certo punto tipologia personologica, tipologia ambientale. Un esame accurato, correlato a questo primo esame, delle situazioni in cui le vittime sono state uccise, delle modalità con cui le vittime sono state uccise e di tutti gli elementi che potessero rinviare ad una valutazione tipologica. E quando si dice tipologica significa non il signor tal dettaglio, significa risalire dalla tipologia delle vittime alla tipologia dei possibili autori. Cioè dei possibili autori nel senso non che devono essere per forza molti più gli autori, ma nel senso che è un range piuttosto allargato nell'ambito del quale range andava ricercato l'autore. Tant'è vero che poi, correlativamente all'attività peritale della resvolta, mi risulta, anche se non siamo entrati noi in questo tipo di... che è stato istituito un po' di ufficio presso la questione di Firenze, presso la poesia, che cercava di raccogliere elementi tipologici relativi a possibili autori per creare dei raffronti, per creare un raggio molto ampio nell'ambito del quale pescare e cercare i possibili autori. Scusi, professore, mi aveva dimenticato. Volete essere presa la telecamera o no? Come? Volete essere presa la telecamera o no? Avete difficoltà? Assolutamente differente. Non sono difficoltà. Ecco, come dicevo prima, quindi lo scopo, esatto dire che lo scopo di questo vostro impegno peritale, aveva a che fare con le indagini. Vale a dire, voi siete stati interpellati, di identificare, non identificare, di delineare queste tipologie, queste tipologie, trovabili tipologie, tipologie, queste tipologie, trovabili tipologie, allo scopo di consentire a coloro che facevano le indagini di restringere il campo della loro ricerca. Esatto, questo. Sì. Benissimo. Quindi voi eravate ben consapevoli nel momento, ovviamente, nel momento in cui svolgevate questa indagine, che le vostre deduzioni, le vostre analisi avrebbero in qualche modo condizionato le indagini. Condizionato l'impostazione. L'impostazione delle indagini. Sì. Grazie. Ma più che condizionato, non mi sta bene condizionato, avvocato, più che condizionato avrebbero praticamente concorso ad orientare le indagini. Ad orientare. Nell'ambito di un'impostazione in cui il responsabile di indagini del Pubblico Ministero è l'operatore della Polizia. Ma certamente. Infatti la parola era sballerata. Ora io le chiedo, nelle vostre intenzioni, la comparazione dei dati obiettivi, che voi a questo lavoro avete fatto prima di tutto attraverso una comparazione dei dati obiettivi di cui disponevate. Esatto. No, comparazione significa comparare una persona ad una determinata altezza ad un altro campione. Noi non abbiamo fatto una comparazione. Noi abbiamo evinto degli elementi, il nostro scopo è evincere elementi di giudizio dalla valutazione delle variabili alle quali ho fatto prima accenno, le vittime, le modalità d'uccisione, i luoghi, le cadenze temporali e vi di seguito, per delineare possibili figure tipologiche di autori. Sì, certo, forse anche qui il termine non è esatto. Volevo dire che il vostro primo impegno è stato quello non tanto di analizzare delitto per delitto singolarmente, fare questo evidentemente, nucleare da ogni delitto delle componenti evidentemente importanti e poi metterle in rapporto con gli altri. Puoi vedere quali erano le variazioni fra l'altro? Quali erano le variazioni? Le similitudini e anche l'eventuale evoluzione nel tempo del modus operandi. Cioè, nelle ipotesi, abbiamo tenuto sempre presente ipotesi di possibili più autori e ipotesi di un autore, poi abbiamo anche espresso le nostre opzioni finali su questo tipo di impostazione. Però nel svolgere le indagini abbiamo tenuto questo parametro e questo parametro ci serviva poi anche per stabilire un'eventuale evoluzione del modus operandi di un eventuale unico autore. Benissimo, ecco, e da questo punto di vista, questo lo avete detto ora, non ricordo se durante l'esame dibattimentale oppure in una delle relazioni, voi avete detto che dopo la valutazione delle singole azioni omicidiarie, le connessioni, il fatto di aver rilevato da parte vostra delle connessioni, nel senso di affinità, fra l'una e l'altra azioni omicidiaria, questa vostra valutazione aveva validità di strumento di prova. Abbiamo detto noi che avesse validità di strumento di prova? Sì, cioè, quando voi avete riscontrato, per esempio, voi avete fatto una valutazione anche di tipo elettronico delle escezioni riguardanti la parte pubblica di quattro ragazze. E fatta questa valutazione, voi avete esaminato i singoli casi e dopodiché avete riscontrato l'esistenza di determinate affinità, riscontrato proprio materialmente, attraverso, poi lo vedremo meglio in questo aspetto, attraverso l'esame grafico ed elettronico delle ferite, quando voi dite in quel caso, ricavate determinate conclusioni da quest'esame connesso, comparato di queste diverse escezioni, e secondo voi questa vostra valutazione, mi pare che avete già detto, ha validità di strumento di prova, di fonte di prova, oppure no? Avvocato, non mi metti l'imbarazzo, perché la perizia si qualifica come mezzo di prova e una perizia ci è stata data. Questo però è un discorso di tipo giuridico procedurale che non interessa me di collegare. Quindi la perizia ci qualifica in ambito, ma questa perizia in particolare, essendo una perizia che era volta a risalire dalla tipologia dei reati alla tipologia del o degli autori, evidentemente è una perizia particolare nel cui contesto le singole attività svolte, compresa quella alla quale lei fa riferimento e sulla quale tornerò specificamente, rappresentano dei tasselli di attività svolte in funzione della soluzione del quesito al quale abbiamo fatto riferimento, risalire dalla tipologia dei reati e dalla tipologia dell'autore. Quindi se lei praticamente chiede una qualificazione della perizia sul piano giuridico procedurale, non ha bisogno di chiedere a me, lo chiede a se stesso, al Presidente, al Pubblico Ministero, perché se chiede però se realmente le attività che sono svolte in questa perizia hanno valore di prove, allora io le devo dire, secondo buon senso, che no, sono elementi valutativi che si raccolgono in funzione di predizioni, perché la nostra è una perizia che serviva praticamente a valutare in funzione dei diritti commessi e anche nell'ipotesi della prevenzione dell'ulteriore dei diritti se si trattava di più autori o di un autore e le tipologie di quest'autore. Noi poi, peraltro, venendo nel merito, non abbiamo fatto questa valutazione che è l'analisi elettronica di immagine sui reperti che abbiamo di fatto di volta in volta accertato, perché non abbiamo fatto noi l'autoreficia nei singoli casi e, peraltro, soltanto nell'ultimo caso l'autoreficia non è stata fidata nemmeno ai miei collaboratori, ma io ho partecipato, ho visto l'esecuzione dell'autoreficia, ma negli altri casi non c'entravamo nemmeno. Quindi le indagini sono state fatte su un piano, per così dire, virtuale. Noi abbiamo preso una delle indagini abbastanza importanti per i nostri fini, riguardava prendere persone, un gruppo di 20 persone, tra cui pochissimi addetti che svolgevano l'autoreficia, quindi in grado di tagliare, che avevano determinata tecnica di tagliare. E gli abbiamo fatto fare dei tagli a queste persone. Poi abbiamo esaminato queste immagini e abbiamo vinto l'uovo di colombo, l'acqua fresca, cioè che ognuno di noi agisce alla propria psicomotricità in un determinato modo. Io taglio la bistecca, probabilmente fin quando non mi ammalo, fin quando non ho alterazioni anche di tipo neurologiche, fin quando non mi trema la mano, allo stesso modo. Un altro lo tango con un altro angolo di incidenza. E' chiaro che se mi si avverte o se mi si dice ma tuttavia io posso benissimo variare le modalità di tagliare, però ognuno di noi ha una motricità per cui esegue, tranne alterazioni patologiche, allo stesso modo. E allora abbiamo sperimentalmente visto che esistono modalità di tagliare abbastanza. E siamo andati a vedere le fotografie che sono state svolte di volta in volta dalla Polizia, peraltro con obiettivi diversi, con macchine fotografiche diverse, con incidenze diverse. Mentre se nell'ambito di indagini seriari sarebbe stato opportuno un certo tipo di tipologia unitaria di visione. Abbiamo preso queste fotografie e allora abbiamo evinto, quindi si tratta di una prova, stabilisco adesso se è prova o se non è prova, abbiamo evinto che praticamente nella serie di lesioni che le vittime presentavano sussistevano caratteri tali da consentire di ipotizzare che si trattasse di una stessa mano. Se questa è prova o meno, non me lo chiedo, perché non lo so. Ma io mi riferivo a questa espressione usata per chiarire un punto di vista, che è questo. Questi vostri elaborati, sia i due elaborati scritti, il primo che arriva fino al 94, all'omicidio dell'84, e l'altro che comprende invece l'omicidio del settembre dell'85, sia il vostro esame in serie di battimento nel corso del progresso Pacciani, comprende, grosso modo direi, due ordini di valutazione e contemporaneamente di problemi. Cioè il primo è un principio di carattere analitico, in cui voi analizzate, vedete da vicino e contemporaneamente tentate delle connessioni rispetto ai dati obiettivi così come evidentemente vengono forniti attraverso foto, attraverso rapporti, relazioni, e tutto il resto. E questo aspetto, come dicevo prima, analitico, ha una sua validità, quale sia e come debba definirsi sul piano giuridico, se valore di prova oppure no, questo è un altro discorso. Mentre, diverso è il piano successivo, cioè a dire molto più ipotetico evidentemente, in cui voi partendo da quell'analisi proponete una serie di rilievi anche per esempio in punto di dinamica psicologica. È corretto questo discorso? C'è l'idea di questo diverso, duplice aspetto del vostro direi per me fondamentale impegno analitico e d'altro genere? Sì, sostanzialmente sì, dinamica psicologica forse un termine generico, ciò che ha guidato la nostra indagine è stato da parte nostra un impegno molto valido, non valido alla importanza, ma certamente molto approfondito, di valutazione criminogenetica e criminodinamica, che significa a un certo punto valutare dopo aver fatto un'analisi di dati, quello che lei chiama analisi di dati o un'analisi di elementi che riguardavano dati raccolti da altri in situazioni diverse e abbiamo creato una sintesi di tipo criminogenetico e criminodinamico tanto per fare un esempio, no? E solo per fare un esempio, evidentemente nella tipologia dei cosiddetti serial killer con i quali si intende alludere a reati di tipo sessuale, diversamente tutti i reati di mafia sarebbero reati di serial killer perché è un mafioso da mafio frenta con 40 senza risparmio di energie e esistono situazioni in cui anzi la maggior parte di situazioni in cui la persona che uccide uccide dove capita e quando capita per strada nell'ascensore nella viuzza e non situazioni come in questo caso che hanno un loro significato stabile cioè situazioni di coppia uccide sempre persone in coppia uccide sempre persone appartate in luoghi con una macchina uccide sempre persone che si stanno accoppiando o perlomeno sono i preliminari di un accoppiamento e già questo è una variabile molto importante rispetto all'ordinaria stesecazione di diritti in serie di un uomo nei riguardi di una donna o di più uomini nei riguardi di una donna quindi una posizione criminogenetica e criminodinamica certo comunque il vostro primo obiettivo nell'ambito di questa è stato quello di identificare quella che io definisco ma anche voi pare definite qualche volta in questo modo come dinamica materiale dei diritti no dinamica materiale e dinamica psicologica dei diritti cioè la dinamica del primo obiettivo dinamica materiale e questo voi l'avete fatto applicando piuttosto un metodo analitico che non sintetico è così tutte le valutazioni hanno una fase analitica e poi sintetica per forza certo no io sottolineavo questo aspetto dell'analisi perché è un aspetto che proprio lei professore aveva nell'ambito del suo esame nel corso del processo Pacciani sottolineato proprio rispondendo a certe notizie di stampa che attribuivano alla vostra equip il fatto di aver creato un identikit e lei giustamente c'è vero nulla il nostro obiettivo non era affatto quello di creare l'identikit ma è stato prima di tutto questo impegno no no questo è vero no questo è vero perché l'identikit significa a un certo punto esattamente il contrario cioè noi qui dentro testimoniamo che abbiamo visto un uomo che è uscito che aveva la barba bianca le sopracciglia folte cioè l'identikit è esattamente il contrario questa è una predizione quella lì invece è una memorizzazione di dati in funzione di aiutare la poesia a scoprire quindi i termini identikit come tant'altro i termini sono stati scusati dalla stampa impropriamente in questo caso benissimo ora se fosse fatta questa premessa diciamo così metodologica e di impostazione generale del vostro lavoro io vi chiedo di sinteticamente indicare quelli che l'ha già fatto il professore ma così ha passato non c'è domanda specifica quelli che secondo voi sono gli aspetti comuni di questi delitti cominciando dal 1968 cioè a dire se sono identificabili una serialità nel senso di esistenza di elementi di carattere comuni di questi delitti dei delitti di cui si occupiamo la corte che la verità si occupa di una parte di essi vale a dire che cominciamo ad occuparci di questi delitti a partire dall'ottobre del 1981 arrivando fino all'85 cioè devi chiedere dall'inizio dal 68 in poi invece io voglio sapere se dal 68 in poi fin dal 68 è ravvisabile sono ravvisabili degli elementi comuni in tutti questi delitti che comprendono appunto 68 74 81 numero 1 noi abbiamo utilizzato un sistema elementare abbiamo esaminato le caratteristiche comuni e differenziali tra i vari delitti e questa analisi dei singoli episodi delittuosi ha tenuto conto nella sottoipotesi del fatto che si potesse trattare di una sola persona della possibilità di evoluzione del modus operandi ora cominciamo con delle osservazioni elementari la stessa arma proiettili provenienti dalle identiche partite di proiettili è chiaro che sono dati che noi abbiamo acquisito perché c'erano agli altri e praticamente le stesse condizioni ambientali e le stesse situazioni situazionali questo è molto importante abbiamo fatto non abbiamo presentato perché è stato un nostro brogliaccio di lavoro ma ce l'abbiamo qua con noi credo che l'abbiamo portato abbiamo fatto un librone molto più grosso di questo di un'analisi comparativa di tutti i diritti seriali di cui alla letteratura internazionale tedesca in particolare perché poi italiani non c'era niente abbiamo visto come il serial killer operava nelle condizioni in cui gli si creava l'occasione non è che operava e opera nelle anche se andiamo a vedere i casi successivi a questo i casi americani l'anno scorso abbiamo avuto un collega americano che ha fatto un corso nel nostro istituto sulle esperienze americane in questo settore allora se chi opera uccide dove gli capita di uccidere qui invece abbiamo le stesse condizioni ambientali situazionali e poi siamo passati per esempio esplicitando professore c'è le fasi non altre sono elementi non di rilievo medico-legale e criminologico sono elementi di base e comune che hanno un loro significato ma esplicitando queste condizioni comuni riguardano che cosa professore la fase lunare per esempio no riguardano la selezione di luminosità e la la collocazione geografica ma le circostanze soprattutto riguardano il fatto singolare di questo delitto di questa serie di delitti è che l'uccisione della donna avviene quando la donna è in coppia in fase di accoppiamento questa è la singolarità perché se io ho una per realizzo diritti sessuali come equivalenti sadici di arti sessuali li realizzo dove mi capita e quando mi capita anche in ascensore per dire una quindi qua c'era una serie di cose che orientavano già in un determinato modo ma non c'era proprio manco bisogno della penizia questo era stato percepito dalla polizia dagli inquirenti nei momenti in cui è stata risposta alla penizia cosa c'è? una scheda che riassume tutte quelle dati ecco vuoi ridustare la scheda? no 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 io non ho letto allora dicevo c'è tutta una serie di elementi di base poi cominciamo con l'escissione per quanto riguarda l'escissione di parte delle regioni genitane questo c'è a danno di tre vittime nell'ambito dei diritti che sono realizzati dal 68 all'84 no dall'ambito del 68 all'84 fino all'84 stiamo guardando la prima penizia non è che metti i forti le penizie mi scusi che le segui che le segua e poi abbiamo guardato le caratteristiche tecniche di produzione delle lesioni tenuto a conto della possibile evoluzione del modus operandi del soggetto per esempio nel caso nell'ultimo episodio dell'84 caso Rontini viene attuata una estensione dell'escissione pubblica che è sostanzialmente simile a quella effettuata nell'81 nel caso di Nuccio e qui ne abbiamo nell'81 una escissione pubblica che diventa più vasta nel caso cambi che diventa ancora più estesa nel caso Rontini cioè c'è uno stesso tipo di tecnica una stessa sede una stessa probabilmente motivazione nella escissione motivazione che poi in seguito potremo approfondire ma con tecniche che possono minimamente variare e migliorare perché c'è una tecnica che migliora da parte di chi delinco o da parte di chiunque fa una cosa pratica quindi si coglie praticamente più o meno una stessa mano con evoluzioni del modus operandi lo stesso riguarda l'uso della pistola perché evidentemente qui ha cominciato a sparare non aveva una condizione sicura del potere d'arresto della sua pistola tanto che sceglie inizialmente come bersaglio preferenziale il torace della vittima poi questo nel 74 si adesso io analiticamente se vuole andiamo a guardare a caso per capo no 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 ma si poi dall'ottantunio in poi comincia a sparare preferibilmente al capo tanto è vero che nel 74 è costretto a finire la vittima con l'arma bianca con l'arma bianca e praticamente in due episodi che seguono al 74 c'è l'uso della rama bianca ora fermiamoci un attimo all'uso della rama da fuoco l'uso l'arma da fuoco secondo la nostra esperienza che la mia esperienza medico legale è anche quella del professor Beduschi che non riguarda questa casistica qua perché questo è un collegio composto da persone che si interessano di criminologia ma che per alcune delle quali Beduschi e me si occupano particolarmente anche di attività necroscopica quindi su cadaveri e Pierini psicologica e laboratorio e invece Ruberto e Gaddiani criminologi ora voglio dire questo in questa valutazione dell'uso arma da fuoco da questa valutazione scatturisce il rapporto alla nostra esperienza di casi diversi che si tratta di un soggetto non espertissimo all'inizio tutt'al più dedito al tiro occasionale con discreti doti naturali di tiro ma non con esperienza consumata che però a furia di fare delitti diventa capace di valutare bene le potenzialità della propria arma tanto per esempio da sparare i due giovani tedeschi nell'83 attraverso la lamiera della carrozzeria del furgone conseguendo effettivamente l'intento quindi c'è un miglioramento del modo superativo che secondo me è meravigliare c'è anche un miglioramento nella donna che si sposa e comincia a cucinare e fa l'omelette bene tre mesi dopo qualche volta qualche volta no quindi voglio dire però un tentativo di miglioramento c'è forse l'esempio è un po' maschilista quindi lo ritiro non politica al correct sì non politica al correct per l'arma bianca indubbiamente il soggetto si rivela sin dall'inizio dell'uso di arma bianca più esperto nell'uso più che significa più esperto nell'uso cioè praticamente sparo un po' così e invece in Cile non a casaccio però abbiamo in alcuni casi anzitutto un uso in un caso dell'arma bianca per finire la vittima che non si decideva a morire poi abbiamo in alcuni casi dei tagli di prova e in casi successivi invece dei tagli mirati alla produzione del feticcio dell'oggetto che doveva portare via anche qui quindi c'è una evoluzione non tanto nell'apprendimento dell'uso del coltello tanto nel prodotto che il coltello doveva fornire e che era il feticcio basta io mi fermerei qua benissimo ecco aggiungerei voi l'avete aggiunta a queste valutazioni circa la le connessioni e le affinità fra i vari delitti anche determinate scelte come per esempio appunto quella della fase lunare sono sempre giorni di notti di novi lunio o di ultimo quarto di luna giorni prefestivi sempre salvo un caso in cui però il giorno successivo era previsto uno scioglio generale la scelta dei luoghi che corrisponde più o meno la scelta dei luoghi corrisponde a delle caratteristiche quasi sempre molto simili strada abbastanza vicina spazi direi quasi sempre piuttosto aperti raramente chiudici a dire non siamo dentro a un macchione siamo sempre in condizioni di una certa apertura e poi alla fine quella che voi avete definito ritualità di queste lezioni esatto benissimo ora volendo ecco io però da questo punto di vista voi avete giudicato spuri questo è il tipo di aggettivo usato all'interno di questo tipo di serali internavo avere definito spuri due delitti non tanto per la esistenza delle condizioni esterne che li avrebbero resi tali come nel caso di Tedeschi e come nel caso di Baccaiano ma proprio spuri come dire fin dall'origine sotto il profilo dell'ideazione sotto il profilo della funzione dell'intente da parte dell'autore e sono il 1968 e il 74 il primo il primo ora questo aspetto che in qualche modo esce dal quadro del primo reggio del 1968 voi giustamente lo avete visto nella nella esclusione di valenze di tipo last murder cioè a sfondo sessuale in quanto che manca mancherebbe secondo la vostra valutazione qualsiasi intervento sul corpo della donna dunque per ciò che arriva del primo delitto e sempre stando agli elementi di giudizio evincibili che si potevano evincere dagli atti il diritto locci per intendersi sì locci o ciro bianco beh lì partendo se quel primo delitto fosse rimasto un delitto solo isolato non ce ne fossero stati altri un non perito un inquirente che andava a vedere quelle vittime in relazione a quello che abbiamo trovato nel radio trusia eccetera non c'erano elementi tali da qualificare quel delitto come last murder come diritto cioè volto ad ottenere piacere questo abbiamo detto non è detto però che non è detto che chi l'abbia fatto non abbia non abbia fruito piacere da quel diritto ma non c'erano elementi quello che volevo chiedervi è siccome non ho trovato traccia nella vostra relazione se voi eravate al corrente al momento di esprimere questo parere e anche come dire questa differenza sottolineare questa differenza rispetto ai successivi sapevate che la donna post mortem era stata rivestita vale a dire gli erano state rinfilate le mutandine in qualche modo i cadavere erano state poi separate l'uno dall'altro dopo essere stati uccisi essendo l'uno sopra l'altro e sulla donna poi era intervenuta questo tipo di azione da parte dell'omicidio se questo vuoi se non ho trovato questo è un elemento nuovo che ci offre e quindi io invito vorrei che l'avvocato precisasse da cosa gli deriva questo elemento che giustamente al professore giunge nuovo perché obiettivamente è nuovo quindi se lui lo sa ce lo provi perché che sia stato fatto dopo o lui c'era o c'è qualcuno che gliel'ha raccontato perché non c'è nessun elemento obiettivo per poter affermare ciò che l'avvocato Filastro ha detto quindi è difficile che il periodo in quale giustamente dice a me giunge nuovo sono elementi sono ipotesi ma non sono fatti provate l'avvocato rispondo questo rilievo a me risulta dagli atti del processo a carico di Stefano Mele non solo ma anche dalla sentenza di primo grado del processo Pacciani dove questo dato viene proposto dall'estensione della sentenza quasi come dire a dimostrazione a propa che uno degli omicidi almeno uno degli omicidi sarebbe il marito il quale poi avrebbe contato questa azione proprio per come dire da una forma di pietas nei confronti della morte sono supposizioni sono supposizioni se posso intervenire e se il pubblico ministero consente che risponda allo stesso in via generale non nel caso se anche comunque mi riservo no 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 però voglio dire avvocato Filiastò se adesso per la prima volta mi giunge come elemento caratterizzante un last mord un diritto sessuale la vestizione non mi sembra cioè se a parte questo diritto che si è verificato con la presenza molto importante di un bambino certo questo è il punto e da questo sessuale come diritto che si è qualifica questa mord l'altra parte se questo è il primo diritto dell'ipotetico autore dobbiamo anche dire una cosa in linea generale cioè non è che uno è uno diventa avvocato giudice o medico legale non è che ci nasce insomma è anche il serial killer un last murder lo diventa non è che quindi a un certo punto molte volte proprio all'apprendimento la prima ecco noi abbiamo svolto la perizia lo stesso equip ha svolto la perizia sul giudice Giancarlo a Torino che è stato caso deliberato è stato quello che ha ucciso nove prostitute mi sembra probabilmente in quel caso lì è dalla uccisione della prima prostituta che è derivato una escalation criminale che poi ha portato ad uccidere nove cioè e man mano che andava avanti ci prendeva gusto e si è perfezionato perfezionata la sua vocazione quindi quando noi diciamo che il primo diritto non ha elementi caratterizzanti in senso di diritto di sedia archivio e la strurde dobbiamo poi anche chiarire che questo non contrasterebbe col fatto che possa essere stato il primo diritto di questa sedia perché ripeto non è che la schmude si diventa insomma ecco però allora può essere stato questo l'occio bianco o un altro qualsiasi avvenuto a Prato o a Trieste certo come del resto quello che lei sta dicendo è confermato dal secondo delitto del 74 dove esistono 96 lesioni d'attaglio sul corpo della ragazza Rontini mi sembra no 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 Stefania Pettini sì certo di cui alcune di queste lesioni d'attaglio sono finalizzate a provocare la morte perché l'abbiamo visto prima e altre alludono e altre alludono sono superficiali no alludono a le agilità 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 sono lesioni che sono intorno mi sembra di ricordare intorno alle mammelle intorno e alla zona del pubo e sulle voce sì e voi avete anche allora un momento quando si dice diciamo alludono anche qui non vogliamo dire se l'autore significa che l'autore in qualche misura anche inconsciamente nel dare le coltellate ha seguito un iter che rappresentava un qualche cosa che era il perfezionamento delle sue tendenze cioè se io coltello 1 per difendere ma coltello dove capita la coltello dove mi capita di colpirlo se io coltello 1 con un certo gusto della coltellarlo evidentemente questa costellazione intorno alle aree mammare intorno alle aree genitali poteva essere siamo sempre il preludio che poi si realizzava di seguito attraverso le scissioni certamente infatti voi avete proprio parlato di esordio o preludio insomma con riferimento a queste lesioni del 74 e come anticipazione di sviluppi futuri in sostanza l'abbiamo detto dopo ovviamente è esposto una denunzione certamente voi riferite nella vostra reazione a pagina 19 della perizia un dato che alla luce di altre emergenze sono anche di cui hanno che hanno formato oggetto anche di questo processo sarà quell'altro è interessante vale a dire voi riferite di una confidenza che la povera Stefania Pettini avrebbe fatto alle amiche circa il fatto di essere stata seguita da uno sconoscere della stazione io volevo sapere se si sapete ricordare questa informazione la ricavaste è riportata non ricordo assolutamente nulla se qualcuno di voi ricorda qualcosa io non assolutamente nulla della prima o della seconda perizia della prima della prima dunque la ragazza voi scrivete il discrimento corretto e riservato nell'estate aveva avuto una simpatia al male ed aveva riferito alle amiche che in altre occasioni era stata seguita da uno sconoscere avvocato non possono che essere altri chiedo scusa presidente si tratta di un fatto del 1974 che non è oggetto di questo processo infatti è quello che volevo far osservare io però se non passa anzi vuol dire anche un cosa si ho capito ma qui si tratta di una simpatia seguita da uno sconosciuto che obiettivamente i periti fanno presente sulla base di elementi che hanno ma non vedo la possibilità di sulla base di documenti è questo che vogliono sapere probabilmente di verbali di ipotesi di ipotesi è certo noi nemmeno non lo avevamo memorizzato perché non è un'acquisizione diretta nostra comunque è un fatto che il presidente non è oggetto di questo processo è oggetto di questo processo perché sono parte della lista che ho presentato a manifestare che è stata ammessa ma le domande io ho chiesto evidentemente ai fatti per cui noi ci dobbiamo ho parlato del tema dei presupposti investigativi da intende sul complesso dei dati obiettivi leve necroscopici orari e presunire delle uccisioni stato dei vari luoghi dei luoghi oggetto dell'omicidio e degli omicidi secondo l'impostazione accusatoria unicità e uso dell'arma da fuoco dell'arma bianca eccetera tali da conferire omogenità e o unicità dal punto di vista dell'autore dei delitti cosiddetti del mostro a ca fine dell'aggiornamento e della negazione del reato contestato alla lettera cur del capo di imputazione per dire l'applicazione del delitto in cui si ipotizza l'esistenza a un gruppo criminale organizzato sia nella provincia di Firenze e commette i delitti di omicidi a danno ai giovani coppie eccetera eccetera e quindi l'esistenza o meno poi si insiste di una specificità dei comportamenti in tutti i delitti contestati nel capo di imputazione e in quelli non contestati agli attuali imputati ma contestati a Pietro Pacciani ritenuto associato al gruppo criminale ricorrenti senza sostanziali varianti per quanto concerne il modus operandi seppure talvolta modificato da circostanze e avvenimenti contingenti ed estemporane collegabili ad una ritualità questo è lo scopo le ragioni per cui ho insistito perché venissero sentiti questi peniti era questo aveva a che fare con questo libro comunque io ricordo ora non c'ho sotto mano l'ordinanza che fu a sto tempo messa dalla corte in ogni modo le prove e mi ricordo in particolare quelle che chiese l'avvocato Santone Franchetti della parte civile con esclusa tutte le prove che attirevano ai fatti non oggetti di questo progetto ora che noi così a passanzi si parli di qualche altro delitto nulla a incontrare però l'indagine nostra è quella che riguarda il capo di votazione e basta grazie presidente eventualmente la corte poi farà se riunirà il processo o non lo riunirà e l'altro di tutto la corte rappello presidente mi permetta bisogna che dissentano a questa sua impostazione perché questo c'è un'ordinanza anche se dissenti no ma l'ordinanza ripeto ammette questa no la limita sulla base di quello che è il testo però in ogni caso se l'ordinanza fosse contrastante in questo momento non me la ritrovo sotto occhio sotto mano non mi pare che ci sia un'udato di contrastante letteralmente questa ordinanza se necessaria può anche essere modificata perché mi pare evidente che questa difesa la difesa del Vanni ha interesse eliminato il quale a questo punto verrebbe eliminato direi l'ottanta per cento dell'impegno e delle possibilità di difendersi del Vanni ha tutto l'interesse a definire o a confermare o a provare o a tentare a provare posso finire Presidente che l'autore di questi delitti è unico è una questiona sola quindi naturalmente ha interesse a determinare un meno l'esistenza in tutti i delitti della serie di elementi di carattere comune connettivo l'uno rispetto all'altro suscettibili di identificare come è stato detto finora l'esistenza di un'unica mano di un'unica tensione di tipo psicologico e tutto il resto tutto questo naturalmente all'interno di una valutazione che quantomeno sotto il profilo della valutazione di determinati elementi da affidarsi a dei periti io avevo chiesto anche del testimoniale sul punto ma tutto questo è stato eliminato riguardi complessivamente un sistema di diritti che qui artificiosamente sia stato per esempio separato siano stati separati i due delitti del 1981 avvenuti l'uno a distanza di quattro mesi dall'altro con modalità perfettamente identiche questo è un discorso ma che non se ne possa parlare neppure sotto il profilo di una eventuale valutazione rispetto a degli elementi comuni allo scopo che dicevo prima allo scopo defensionale che dicevo prima e questo francamente mi pare di un'assurdità notevole straordinaria eccezionale persino direi fuori di qualsiasi norma processuale no avvocato non è così perché allora lei può poter parlare anche di un altro delitto che per noi è un delitto strano alla nostra indagine poi insomma si continua a dire artificiosamente ma c'è un capo imputazione allora a questo punto la corte sull'osservazione della difesa e sull'opposizione del pubblico mistero si ritira per chiarire e eventualmente modificare l'urginanza che ha miso la prova a suo tempo bene grazie il caso 3 a cui fa riferimento l'avvocato è Diluccio Carmela e il caso 4 è Cambi Susanna e dagli schemi allegati alla perizia e quindi di conseguenza anche alle fotografie che adesso non sono in mio possesso ma possono essere prontamente verificate ritengo si sia trattato in quella mia deposizione di uno scambio materiale di casi e quindi voglio dire questa evoluzione in senso aggiuntivo perché poi nel caso successivo quando si verifica la prossima eccessione vale a dire il caso dell'84 che riguarda la povera Pia Rontini a questo punto c'è anche l'interesse verso il seno questa evoluzione in senso aggiuntivo come dire accrescitivo è riscontrabile proprio direi con una carenza che non presenta nessun tipo di contraddizione questo volevo chiarire ecco ora io volevo chiedervi questo voi avete esaminato beh questo altra parte bisogna per forza menzionarlo perché quattro escissioni pubbliche che sono quelle che riguardano la prima il giugno dell'81 la seconda l'ottobre dell'81 la terza è luglio dell'84 e la quarta è settembre dell'85 ora con riferimento a questa escissioni soltanto pubbliche volevo sapere se voi avete localizzato come posizione come scelta di posizione della lesione dell'escissione un punto ben determinato sempre in tutti i casi rispetto alla radice delle cosce e rispetto alla linea dell'ombilica ma De Fazio ne prego vorrei capire il senso non si può rispondere a una domanda se non se ne capisce c'è il senso io non riesco a capire il senso della domanda è la esplicitazione in termini esemplificativi di quello che lei ha già detto circa la probabilità o l'alta probabilità poi dirà meglio come definire questo vostro giudizio che colui che compie queste escissioni sia sempre la stessa lezione cioè che dietro a questo tipo di lesioni si trovi la medesima marca ecco io però ecco ringrazio per avermi chiesto avermi dato questa spiegazione che mi consente di affermare che quello che noi abbiamo sa dopo adesso scegliere il particolare quello che noi abbiamo sempre detto è comunque scritto e pensato e che pensiamo ancora è che in delitti diversi dove esistevano lesioni da puntettaglio diversi diversificati abbiamo siamo arrivati alla conclusione che questa situazione di diversificazione non uso in alcuni casi dell'arma da puntettaglio uso non centrato inizialmente e non mirato all'asportazione del seno e del pube non era in contrasto con un'unica mano anzi poteva delineare un percorso però ecco penso che noi non possiamo che fermarci qua cioè non abbiamo malgrado l'apparente diversità fra un caso e l'altro che avrebbe potuto portarci a dire che si trattava di diritti diversi e di mano diverse noi abbiamo interpretato le cose in termini italiani da dire che poteva benissimo era concretamente attendibile che si trattasse di uno stesso autore anche dal punto di vista della desilità da puntettaglio in quanto la desilità da puntettaglio malgrado gli apparenti contrasti delineava una stessa mano di una persona che però ha avuto un'evoluzione nel praticare i tagli ecco restiamo sempre qua cioè pretendere poi di arrivare invece alla prova che si è stata no 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 questo poi naturalmente il problema abbiamo già detto che la definizione di prova o non prova è una cosa che appartiene al giudice e prima anche agli avvocati quando discuteranno no ma proprio in questa ottica in questo quadro io volevo come dire esplicitare meglio questo discorso con particolare riferimento alle escessioni pubbliche in cui voi avete prima di tutto ricercato la localizzazione come posizione di queste ferite rispetto alla radice delle cosce rispetto alla linea dell'ombelico in tutte e quattro i casi poi avete localizzato l'andamento del perimetro per esaminarne la forma geometrica certo poi avete calcolato avete fatto il calcolo dell'area e della profondità della lesione certo infine poi avete fatto il calcolo rispetto al perimetro del dove inizia l'azione d'attaglio che secondo me fra l'altro di tutti è il dato questo lo vedete voi ma insomma a mio parere il dato più indicativo ma una collocazione voglio dire questa è la domanda se voi avete fatto queste analisi e quali sono i risultati che gli hanno dato queste analisi con riferimento alle decisioni pubbliche allora il problema la risposta diciamo si divide in due fasi una fase di valutazione morfologica generale e macroscopica dessunta dalle fotografie a nostra disposizione perché non sono non si è potuto partecipare alle autopsie direttamente quindi prendere direttamente le misure in corpo salvo che nell'ultimo caso che è complesso nei quattro sì sì ma insomma avete assistito abbiamo sì e invece l'elaborazione poi computerizzata dell'immagine per la quale poi passerò la parola al collega professor Pierini dal punto di vista macroscopico anatomo patologico che era quello che è quello di mia maggiore pertinenza si è rilevato sostanzialmente come elemento che accomunava queste lesioni queste escisioni pubiche si è rilevata un'incisura ricorrente nel quadrante credo attorno alle ore 11 del quadrante del cerchio esattamente 10-11 ecco che è stata da noi interpretata come un atto anche facilmente immaginabile plausibile in due in due gesti diciamo quindi un primo colpo di escissione poi una sorta di interruzione con o senza estrazione della lama e poi un secondo colpo di chiusura il che appunto ci appariva traumatogeneticamente corrispondente con un'azione a doppia a doppia incisura ecco mi ricordo che era aperto il problema se la lama fosse stata estratta o meno tra un atto e l'altro ma la cosa era poi parsa irrilevante ecco per quanto riguarda poi le estrapolazioni numeriche le distanze i perimetri le profondità eccetera eccetera ecco lì ci si è dovuti basare su delle valutazioni fotografiche e non su delle rilevazioni metriche dirette e queste fanno parte poi dell'indagine che ha svolto il professor Pierini a cui darei la risposta la la parola scusi professore da un punto di vista ancora di analisi macroscopica anche per esempio la forma del tipo di lesione vale a dire questi quattro elissoidi con quattro aree che voi dite perfettamente paragonabili sì la forma per quanto riguarda in particolare voi dite il livello di schiacciamento e l'elissoide che questo è perfettamente equivalente in tutti i quattro casi cioè l'elissoide ha un certo livello di schiacciamento che i denti sono sempre sì ma voglio dire io a questa osservazione che si conferma quindi la sostanziale identità di questa morfologia di questo perimetro conferirei un'importanza relativa nel senso che la forma cioè l'elissoide discendono quasi automaticamente dalla conformazione anatomotopografica della regione nel momento in cui l'obiettivo è quello di escindere una certa parte e chiunque lo pratichi su qualsiasi persona fondamentalmente è condizionato dalla spazialità della zona quindi dalle pliche inguinofemorali dal cuscinetto adiposo del sovrapubico e di fatto quindi l'elissoide è direi la caratteristica che avrebbe qualsiasi manovra del genere fatta da qualsiasi mano quello che colpiva invece più che non il perimetro era proprio questa incisura perché questa riportava a due atti separati e quindi riportava ad una manualità abbastanza ricorrente l'elissoide è ovvio la regione determina asportazioni di quel genere nella regione determinano inevitabilmente in astratto in concreto a parte questo schiacciamento dell'elissoide che è sempre uguale e che a me può darsi da profano suggerito quasi un'immagine equiparabile a qualche elemento di grafologia quasi voglio dire sostanza qualcuno che disegna in un certo modo possiamo fare la domanda sì sì non era una domanda mia era un'osservazione ecco la domanda è questa da rivolgere in particolare a professor Pierini lei ha rilevato professore da questo punto di vista prima di tutto che l'azione di taglio portata da una radice della coscia all'altra lungo tutta l'arcata pubblica segue il filo fra il piano muscolare e il piano del tessuto adiposo se volesse essere così gentile da spiegare meglio questo tipo di conformazione della lesione questa scissione come avviene in cui a un certo punto l'operatore insomma ha questa capacità di distinguere di separare questi due diversi piani quello muscolare e il tessuto adiposo e se questa è un'operazione ovvia oppure sempliceversa la capacità di distinguere di separare questi due diversi piani quello muscolare e il tessuto adiposo e se questa è un'operazione ovvia oppure sempliceversa presenta aspetti di una certa complessità che in qualche modo denotano una quantomeno una manualità notevole questo è riferimento in particolare al verbale dibattimentale sempre del 15 luglio del 94 a pagina 36 sì allora Pierini la domanda è fatta di tante domande vedo di iniziare allora dalla prima mi rallaccerei al discorso che è rimasto un po' in sospeso dello schiacciamento dell'elissoide nel senso che come ha detto bene il mio collega professor Beduschi prima è la conformazione e la sede anatomica che guidano spesso i risultati e questo è lampante tant'è che questo schiacciamento dell'elissoide non è da intendersi come un giudizio a posteriori di particolare significato è un dato numerico come appare analizzando al calcolatore l'immagine chiaro che al calcolatore io non li posso dire guarda che si tratta di un'area pubblica gli do semplicemente una fotografia fa l'altro con i limiti del fatto di non sapere esattamente con quale angolo è stata ripressa la fotografia e questo è stato già enunciato in anticipo di discussione del professor De Fazio e piuttosto della cosa interessante dello schiacciamento dell'elissoide è che se lei va a guardare i parametri di proiezione di questo schiacciamento perché sono quelli da guardare non lo schiacciamento in quanto tale cioè FERT X si vede chiaramente che c'è bene fuori l'aspetto evolutivo come vi era stato già detto prima del professor De Fazio numericamente i valori di proiezione dell'asse vanno da 11.045 a 11.631 questo per dire che l'aspetto evolutivo emerge chiaramente al tempo stesso il discorso dello schiacciamento dell'elissoide è limitato alla configurazione anatomica della sede su cui si sta operando poi per quanto riguarda il rapporto fra piano muscolare e piano di poso ricordiamoci che sempre anatomicamente la zona è fatta in modo tale che sotto l'epidermide il pannicolo adiposo appare abbastanza come dire mobile e il piano muscolare invece serve per connettere profondamente le strutture osse del bacino quindi si tratta di due strutture che anche meccanicamente sono sottoposte a due mondi diciamo di forza diversi quindi chi taglia taglia con una struttura sottostante potremmo dire anatomicamente quasi predisposta a essere separata in due parti una adiposa e una muscolare perché quella muscolare ha una resistenza passiva adatta alla struttura ossea da essa connessa il panico di forza è prevalentemente agganciato alla parte dell'epidermide quindi quello che noi abbiamo potuto documentare è che effettivamente nel modo superandi la parte muscolare viene continuamente esposta all'incirca nella stessa quantità però io questo non lo posso intendere come valore unico ed esclusivo per accertare che ci sia un modo superandi talmente preciso da intenzionalmente separare allo stesso modo le due parti comunque l'operazione in sé non è semplice voglio dire è un'operazione voi l'avete detto visto che denota una certa maestria se non proprio conoscenze di tipo da pericolo settore o di tipo medico quantomeno la manualità discreta infatti noi abbiamo parlato di una certa maestria però questo non significa particolare maestria sì e dunque la stessa se poi volesse lei professore illustrare un po' meglio quelle illustrare perché sono un po' per a miei occhi e credo anche agli occhi di molti giudici della corte non chiarissimi come sono stati ottenuti questi parametri numerici che lei indica e che vengono nel suo elaborato delle dell'analisi digitale delle immagini che viene indicato secondo queste sigle certe eccetera che cose c'è allora l'analisi di immagini è un processo virtuale questo è una cosa molto importante da definire prima di tutto cioè si tratta di attribuire ad ogni punto di un'immagine una fotografia come nel gioco della battaglia navale alcuni parametri numerici uno di questi identifica la posizione del punto immaginiamo la foto del volto di una persona gli occhi si troveranno all'interno del riquadro della fotografia in una certa posizione che si può definire con un sistema di assi cartesiani X e Y cioè distanza da un bordo distanza dall'altro bordo non occorre fare la distanza da tutti e quattro ne bastano due così come per identificare appunto la nave nella battaglia navale basta dare la posizione A2 B4 verticale e orizzontale benissimo poi a questo parametro che identifica un punto dell'immagine se ne può attribuire un altro sul valore di scala di grigio cosa significa? Significa colore semplicemente si chiama scala di grigio in termini convenzionali perché poi nel computer essendo il colore non percepito come dall'occhio umano ma un valore numerico si oscilla fra 0 e 1 e quindi si parla di scala di grigi anche trattando del colore quindi dell'intensità relativa no questo ha a che fare con il valore di luminosità dell'immagine ma corrispondente scendendo dal terreno virtuale a quello reale dipende da come viene impostata l'analisi se io do ad un valore di rosso un corrispondente valore di grigio successivamente posso dire che quel grigio mi corrisponde a quel rosso altrimenti il calcolatore non sa assolutamente nulla non è un cervello pensante certo se questo capite mi faccia capire a che cosa serve l'analisi di questo genere sul colore l'analisi sul colore serve perché attribuendo per esempio al rosso un certo tono di grigio al giallo un certo tono di grigio abbiamo potuto misurare quello di cui parlavamo prima cioè che la quota di superficie muscolare esposta rispetto ai brandelli di tessuto adiposo che rimanevano era pressoché costante ho capito benissimo grazie ho capito molto chiaro e questi e questi valori insomma voi avete con un procedimento di questo genere sia pure a livello virtuale ricavato dalla comparazione di queste immagini nei quattro nelle quattro lesioni che lei ha esaminato sono sovrapponibili equivalenti paritetici allora devo dire nessuno dei tre perché sovrapponibili no perché abbiamo detto c'è un fatto evolutivo infatti la proiezione sulle x aumenta leggermente quindi non sono sovrapponibili non sono equivalenti perché ovviamente per essere equivalenti due figure geometri che devono avere figura leggermente diversa quanto a perimetro ma identica area direvo dire che queste figure hanno invece una cosa caratteristica cioè hanno un centro comune intorno al quale si muove un perimetro che con alcune oscillazioni si mantiene lungo una certa fascia di differenza fra un caso e l'altro con andamento evolutivo quindi significa che sostanzialmente sono tre figure sono quattro figure che da un punto di vista geometrico si chiamano figure sghembe perché non sono delle figure perfette un cerchio un ellisse un quadrato un triangolo eccetera però sono figure che hanno alcuni punti in comune cioè il fatto di essere tutte riconducibili geometricamente matematicamente ad un'ellisse sul perché delle ellisse è stato detto prima spero di essere stato abbastanza chiaro certo paragonabili allora paragonabili esatto infatti si parla di figure congruenti geometricamente ma non sovrapponibili o equivalenti ecco sotto questo profilo lei ha rilevato un parametro costante per quello che riguarda la profondità il parametro costante il parametro costante direi di no perché la figura umana è diversa da un caso all'altro se tutti i parametri di profondità fossero stati costanti considerando che le ragazze hanno avevano una struttura fisica sicuramente non identica l'una all'altra avremmo avuto percentuali di tessuto muscolare esposto diverse d'accordo mentre invece quello che noi abbiamo rilevato è semplicemente che la percentuale di tessuto esposto muscolare rispetto all'adiposo che è stato scisso insieme alla parte dell'epidermide è in analogia fra un caso e l'altro ecco lei ha usato questa espressione volesse sapere se la conferma la profondità di discesa del coltello durante l'escessione è uniforme esatto cioè non costante è uniforme cioè si segue quella necessità di separare l'adiposo dal muscolare benissimo e poi l'ultimo elemento avete ha rilevato un angolo di incisura che si colloca sempre come si è stato detto prima fra ore 10 e ore 11 fra ore 10 e ore 11 la conclusione sua è che si tratta della stessa mano di un modo molto simile in tutti i casi di tagliare e poi lei parlò proprio di stessa mano ecco ora passando dalla mano al coltello qui noi si tratta di esaminare in particolare la lesione al seno che riguarda il caso del 1985 vale a dire l'omicidio della coppia dei francesi qui sono state fatte due ipotesi da parte vostra una prima ipotesi con riferimento a che cosa si osserva l'abbiamo osservato anche noi attraverso le foto in una certa zona ma immaginando idealmente un cerchio come la figura geometrica formata dalla lesione attraverso la quale si arriva all'escessione del seno si nota parallelamente alla lesione diciamo così principale una serie 5-6 piccole lesioni più superficiali che si accompagnano si convocano parallelamente rispetto alla lesione principale questo è il dato rispetto al quale se non ho capito male sono state fatte due ipotesi la prima è che queste lesioni superficiali parallele diverse rispetto alla lesione principale siano segni di attacco vale a dire come delle prove fatte dall'operatore la seconda è che il coltello usato fosse dotato di un doppio filo di lama cioè uno liscio e uno zigrinato in modo che compiendosi questo movimento circolare intorno al seno a un certo punto per una flessione dell'ulna coltello avesse sostanzialmente leso la cute non più attraverso il filo della lama ma attraverso questa dorso zigrinato lasciando queste ferichine parallele come si è detto prima il quale fra l'altro se non sbaglio misurate proprio da lei queste ferite dovrebbero essere perfettamente parallele l'una all'altra e perfettamente equidistanti l'una all'altra quindi con riferimento a queste due ipotesi lei quale ritiene la più probabile allora guardando come sono distanti le abrasioni perché poi di abrasioni si tratta se noi avessimo avuto a che fare con non un'abrasione ma con un'incisione della cute e quindi con una forza resiva tagliente applicata alla cute di notevole entità tale da vincere la resistenza della stessa e dal luogo all'assorzione di continuo potrebbe essere molto importante dividere le due cose invece noi ci troviamo in una situazione in cui un'abrasione che nei fenomeni poi post mortali di evaporazione dell'acqua dell'epidermide ha un suo modo di secarsi di asciugarsi che si dice per gamenaceo proprio perché la cute poi presenta quell'aspetto e l'abrasione sappiamo che non va a incidere il derma allora le distanze che noi possiamo reperire sono distanze che sono avviziate dal fatto che a differenza di un'incisione che arriva fino al derma l'abrasione ha una certa mobilità nel senso cioè che le distanze fra un punto e l'altro non sono fissate dall'incisione del derma che crea una soluzione di non ritorno per quanto riguarda i rapporti di distanza le cose possono cambiare anche notevolmente tenendo conto poi che le misure vengono effettuate su base millimetrica se andiamo a ripercorrere qual è l'oggetto che noi andiamo a misurare ci accorgiamo che con un reghello da un millimetro se lei misura una distanza mettiamo di 11 millimetri cosa ottiene? ottiene un errore del 5% ovvero non si fa altro che dividere il grado di precisione dello strumento di misura per la misura effettivamente effettuata e si moltiplica tutto per 100 allora il 5% di errore su le distanze delle linee di abrasione considerando l'evaporazione post-mortale comporta una previsione sul fatto che siano alla stessa distanza mentre invece permette di dire abbastanza con certezza che l'andamento è parallelo perché parallelismo non cambia mentre invece potrebbe essere viziata da un errore diciamo di misura l'effettiva distanza allora noi infatti abbiamo detto profilo probabilmente zigrinato del coltello ma abbiamo detto anche a pagina 59 detti meccanismi possono essere amplificati dalla perdita del filo di taglio dovuta alla precedente collutazione cioè noi non sappiamo se lo strumento tagliente era in perfette condizioni d'uso oppure se avesse mai potuto subire delle alterazioni in questo caso il profilo di abrasione potrebbe essere stato dato non tanto da un tagliente zigrinato perché così fatto dalla ditta produttrice ma potrebbe essere dato anche da vizi nella regolarità del filo di lama e questo ovviamente non possiamo saperlo perché come è stato detto all'inizio della nostra discussione noi non andiamo a fare l'identikit e a dire ah è stato questo diciamo qual è il profilo dell'arma che può aver ma per profilo si intende quali sono le forze fisiche che hanno lasciato un segno di sé visibile non possiamo ricostruire dall'analisi tronica di immagini che ripeto è un'indagine di tipo virtuale la concretezza di un oggetto sì ma io la mia domanda però era come dire preliminare rispetto a questo esame di dettaglio che lei fa all'interno della stessa ipotesi perché le ipotesi sono sono due io fra l'altro la prima la faccio così perché è stata in qualche modo ritenuta persino all'interno di un giudicato ma mi sembra comunque che qualcuno che l'operatore prima di tagliare definitivamente abbia fatto dei tentativi la lama bensì la costa la costola del coltello la costola del coltello come lei dice potrebbe essere stata o ziplinata quindi così si trovava l'arma originariamente uscita alle mani del produttore oppure che si trovava in un modo con questo tipo di abrasioni con questo tipo di segrettatura determinata da usura per esempio da quello che si muove insomma ma la domanda sul maggiore o minore livello di probabilità riguarda primo che sì cioè dire è più probabile un un reiterato tentativo volontario prima di compiere questa scissione globale oppure è più probabile la seconda ipotesi per dire abrasioni determinate da una particolare conformazione della costola del coltello avvocato l'analisi di immagini non permette di fare la macchina del tempo e di andare a vedere che cosa nella realtà è successo cioè l'analisi di immagini non permette di fabbricare ipotesi permette soltanto di fatta un'ipotesi vedere se questa sta in piedi quindi io posso dire che per quanto riguarda la ipotesi del tentativo l'esperienza medico legale suggerirebbe che i tentativi arrivino all'incisione del derma ma suggerisce l'esperienza medico legale in generale per quanto riguarda invece la seconda ipotesi è compatibile con un movimento che noi abbiamo ipotizzato a pagina 58 che è quello di abduzione dell'ulna sul radio eccetera eccetera che provoca un cambiamento di inclinazione del tagliente della lama che viene ad essere maggiormente avvenuto sulla corsa e appoggiato su un'immagine affilo scrittato il quale può produrre la città certo però l'analisi delle immagini non mi dice cosa è prevalente statisticamente delle due cose perché si fa capo a due ipotesi in partenza diverse solo l'analisi delle immagini certamente no ma lei poco fa ha detto che quanto meno sotto il profilo di quello che avviene normalmente l'esperienza medico-legale dice che se si fosse trattato di un'azione tipo volontaria non si sarebbe trattato soltanto di abrasioni ma ci sarebbe stata quantomeno una incisione per la cota di esperienza di tante no? Vede avvocato l'esperienza medico-legale è la somma di tante cose se dalla somma di tante cose lei vuole diciamo arrivare a individuarne una togliendola dalle altre si arriva delle conclusioni troppo diverse dai punti di partenza io posso dirle che l'analisi di immagini permette di validare un modello che è quello per esempio dell'abduzione una sul radio con uscita e presenza della forza del filo di costa dell'amo opposto sotto forma di abrasioni poi non posso dirle se questo ci permette di decidere se prima è stato fatto un tentativo rispetto all'ipotesi che si tratti di una figura d'uscita questo assolutamente no non è possibile farlo ed è metodologicamente scorretto farlo beh professore abbia pazienza no metodologicamente in senso scientifico lei può farmi tutte le domande che vuole ma io ragiono anche in termini di consenso se è corretto secondo lei un ragionamento di questo genere e dico questo se qualcuno vuole provocare delle lesioni per fare tentativi per circoscrivere una determinata area o come avvenuto a suo tempo nel caso dei capettini per esempio dove si sa che l'escissione non c'è stata ma c'è stata come dire in forma di esortio in cui sono state circoscritte determinate aree ma circoscritte in modo da delle acute in modo abbastanza evidente sia pure superficiale ma evidente trattandosi in questo caso non di uno o di due ma di quattro cinque sei anche non ricordo esattamente di una lesione esattamente parallele l'una all'altra almeno una di esse avrebbe leso l'acute non sarebbe stata soltanto a livello di abrasione ma avrebbe avuto questa caratteristica che essere qualche modo io penso così ragiono così la domanda chiedo scusa la domanda è se questo tipo di ragionamento il perito lo ritiene completamente da respingere oppure non attendibile è quello che si vuole insomma ecco qual è il suo giudizio rispetto a questa valutazione ma io faccio qui sono benissimo grazie professore è arrivato lei a dire che l'avrei detto io mi sembra che il mio collega professor Pirini abbia portato abbia esordito dicendo che si tratta di realtà virtuali cioè a tutto a corredo della nostra indagine abbiamo utilizzato anche la elaborazione tecnica di immagini ma questo non può essere e ci ha comportato la possibilità di praticamente di surrogare maggiormente l'ipotesi di un di un'evoluzione nell'uso del coltello ma qui stiamo ragionando avvocato mi consenta come se la persona che ha operato queste 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 coltello l'avesse fatto quasi sperimentalmente è chiaro che tutto questo avviene nella concitazione di un di un delitto insomma di una ehm tanto più e a maggior ragione se eh da parte di colui che l'ha commesso esistevano motivazioni eh di carattere esadico sessuale cioè motivazioni che richiedevano attraverso quell'atto un soddisfacimento della propria istintualità e dei propri impulsi e allora a questo punto l'unica cosa che possiamo dire è che il contributo della lavorazione delle azioni che immagini è tale da avvalorare ulteriormente la ehm possibilità che ad azionare l'uso dell'arma da taglio da punta taglio è stata sempre la stessa persona malgrado le differenti lesioni riscontrate in un caso rispetto all'altro cioè servito il discorso per coprire il contrario cioè quello che poteva il tuo cuore apparire le lesioni sono diverse da caso a caso quindi si è trattato di azioni compiute da persone sempre diverse il nostro discorso ha servito a coprire quella che se poteva sembrare una prima apparente verità però pretendere ad andare oltre mi sembra che significherebbe forzare la possibilità del nostro discorso si professore però io cercavo di arrivare un po' più in là anche sulla base di quello che sono le vostre valutazioni contenute nella vostra relazione cui voi dite poi certamente qui cercare la verità dimostrazione matematica io sono benissimo ma ho di tempo faccio processi sono benissimo che in questo in questo campo questo settore è semplicemente assurdo anche se voglio dire talvolta può sembrare che si ricentri qualcosa di questo genere specialmente quando si producono esami computerizzati con certi valori numerici ben precisi come anche il vostro caso cioè non toglie appunto perito si chiede un giudizio che può anche essere sbagliato ovviamente questo lo sappiamo tutti io volevo semplicemente dire che dalla questo problema che riguarda la stessa mano voi sei passati anche ad una valutazione dell'arma e valutazione dell'arma descrizione pagina 60 a conclusione il coltello dovrebbe quindi essere dotato di una lama robusta con doccia di rinforzo avere due figli di taglio di cui uno ziprinato tipo su e possedere caratteristiche di notevole robustezza i dati sovrallencati indicano quindi come il coltello appartenga con grande verosimiglianza ad un modello sportivo o comunque speciale ecco ecco benissimo ecco cioè questo non è altro che una ipotesi che è supportata da questi elementi dell'analisi virtuale è la stessa cosa per fare un esempio mi sto occupando adesso di un caso in cui si tratta di una persona investita da due autovetture in un investimento in tempi diversi la persona è ceduta ora il discorso è stabilire attraverso i contributi della adesività virtuale per intenderci le case produttrici di autovetture utilizzano manichini nello scontro con l'autovettura o un'altra in rapporto e fanno sì che le autovetture si scontri per vedere per migliorare la tenuta dei loro materiali delle macchine ora è chiaro che tutto questo non mi darà in questa penizia degli orientamenti non mi darà dei parametri non posso trasformarli in elementi probatori allora la stessa cosa è qua qui a un certo punto alla fine ci spingiamo a dedurre tenuto conto dei risultati dell'indagine virtuale quale potrebbe essere ma uso il condizionale oltre che il verbo poter oltre che il riferimento possibilità il tipo di arma ma andare oltre non c'è possibile insomma ecco perché significerebbe andare oltre nel senso di dire coltelli era questo per questo siamo perfettamente d'accordo ma volevo dire no anche potrebbe essere stato anche coltelli diversi usati in modo tale però è meno verosimile in modo tale da dar luogo lo stesso ad un certo tipo di lesività che poi abbiamo teorizzato in base all'analisi virtuale ma questo è meno verosimile e meno verosimile questa è la cosa importante e all'interno di questa valutazione volevo sapere al professor Spirini se era entrata in questa valutazione o in questa ipotesi di una certa arma era entrata anche la valutazione della impronta ritenuta trovata su un su una parte mi pare sul radio sul radio delle giovani francesi esatto che lei ha rilevato come si tratti di un'impronta forma triangolare se vuole darci delle indicazioni su questo aspetto è molto importante anche per un'altra ragione allora Pierini vuol sapere com'era com'appariva si com'appariva e quali com'appariva morfologicamente questa impronta sul radio del giovane se questa impronta è indicativa di una speciale particolare forza violenza della della lesione del 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 colpo per intendersi se è compatibile questa violenza questa forza questa capacità di penetrazione che arriva a lasciare l'impronta su una parte ossea con uno strumento privo di manico si si ma è risposta si no 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 rideva il professore sta dicendo mi chiede delle cose non ridevo mica io voglio dire insomma non rispondo quindi dico io che le cose non hanno senso ma insomma no è la difficoltà di stabilirlo penso io ma questa è la ristabilita è il pericolo io voglio dire se io se io ho uno strumento e non ha manico non c'è da pretendere che possa rispondere e quando do un colpo particolarmente volento mi slitta la mano insomma io posso rispondere e fra le due ipotesi preferirei avere in mano un coltello con il manico questo è il dico posso soltanto dire una cosa all'avvocato intanto mi scuso perché il sorriso non voleva essere un sorriso di tipo professore non me ne ero nemmeno accorto che le avesse sorriso ecco allora scome avevo sorriso anch'io pensavo che si riferisse a questo fatto nemmeno sorriso allora guardi io mi sono permesso io lascio perdere se no lasciamo fare se no chiedo scusa quindi non era lei comunque visto che non se ne era accorto ma l'avevo fatto le chiedo scusa non mi chiederemo di polizia professore io con lei non ho se mi fatti rispondere con il ministero si sono qui a posta a polizia e vanno con lui e mesi si va avanti allora guardi intanto invoco un precedente autorevole a questo sorriso per cui lo prenda con una dimostrazione di stima dunque per quanto riguarda quest'ultima parte io non posso assolutamente rispondere se questo oggetto aveva o non aveva manico o come era fatto dietro perché l'analisi di immagini ripeto va a guardare una cosa che non è altro che ciò che rimane dopo che si è sviluppata una certa forza fisica su un substrato in questo caso biologico se io faccio una punta in un tassello di legno con un chiodo oppure con un chiodo con diciamo dietro di sé un'astronave io otterrò sempre la stessa figura di punta non potrò mai sapere esattamente cosa c'era perché quello che c'era dietro non lascia segnali di sé ed è questo il punto poi sul fatto che il buonsenso faccia pensare una cosa o un'altra io così per sdramatizzare ricorderei Fulks che era un grande maestro dell'ideologia che diceva sempre ai suoi ragazzi guardate che la cosa peggiore che può capitare a uno scienziato è di avere dall'esperimento il soddisfacimento delle proprie teorie perché spesso qui c'è qualcosa che inganna allora il buonsenso è un ottimo strumento ma non è uno strumento analitico perché non segue le regi della logica ma segue quelle dell'intuizione e quindi lo prenderei lo prenderei un pochino così con le pinze allora visto che qui parliamo di analisi di immagini cioè di numeri crudalmente brutali e nella loro schematica nudità rimaniamo fermi a quelli io posso dire che sul radio del ragazzo francese appare una figura di lesività a forma triangolare che è stata misurata dal professor Maurri nei termini di millimetri 10 per 12 per 2 e dal sottoscritto pulendo al calcolatore l'immagine in millimetri 10 per 13 per 2 quindi c'è una piccolissima differenza questa figura triangolare è una figura che si approfonda all'interno per circa 2 millimetri quindi se guardiamo questa figura da un punto di vista tridimensionale si tratta di un tronco di piramide visto dal basso d'accordo? gli angoli alla base della piramide sono di 20 gradi e 20 gradi per quanto riguardano le mie misure e verrebbero di 15 e 18 19 secondo le misure del professor Maurri quindi entrambi comunque permettono di calcolare un angolo opposto al vertice sui 140 gradi 137 e mezzo 140 gradi questa è diciamo la caratteristica di profilo dell'immagine piana così come si presenta sulla superficie dell'osso e che corrisponde alla base della piramide poi se immaginiamo adesso di guardare non l'osso dalla superficie esterna ma trasversalmente andiamo a vedere com'è fatta la piramide da un punto di vista di profondità sarebbe stato interessante a questo punto a calcolare bene anche gli angoli con cui scende questa figura all'interno dell'osso soltanto che visto che la figura scende per soli 2 mm un errore del 5% a cui facevo riferimento prima toglie molto valore a questo tipo di misura però si può vedere che si tratta lo stesso di angoli acuti in teoria a questo punto noi ci saremmo dovuti aspettare che cosa una piramide non più tronca ma una piramide con un vertice finale che essendo gli angoli di ingresso acuti dovrebbe essere di tipo ottuso però la piramide tronca quindi noi non sappiamo esattamente andare oltre come una miniera in cui crolla una parete e non si sa che cosa c'è dopo perché il fondo è piatto di questa ferita di questa forma di lesività su 2 mm si può dire molto poco possono essere detriti del periostio possono essere cose che si sono messe contrapposte fra la punta e l'osso per cui l'immagine si tronca oppure ci può essere qualche imperfezione nello strumento che ha agito per cui anziché avere una punta affilatissima lì o una punta un po' sbrecciata qualcosa del genere si crea uno stampo teniamo presente che nella relazione che noi abbiamo presentato le figure sono ingrandite ripulite sembrano cose grosse nella realtà pratica si tratta di una scheggina di un centimetro di altezza per 2 mm di profondità fare le misure lì è veramente un'impresa complessa quindi io direi che ciò che ho potuto empiricamente vedere adesso l'ho detto però non posso assolutamente dire se lo strumento che ha fatto questa impronta fosse dotato meno di manico questo assolutamente esula diciamo dalle anzi direi anche dalle proposizioni scientifiche con cui mi sono messo all'opera ho capito e però insomma conclusivamente questo tipo di impronta da lei verificata in questo modo con queste caratteristiche e tutto il resto è compatibile con quel tipo con la ipotesi che voi avete fatto circa il coltello che avrebbe provocato l'escessione pubblica dunque sì qui la cosa è un po' complessa perché noi abbiamo pensato in base all'escessione pubblica il coltello doveva essere dotato di un tagliente molto robusto considerando anche tutta la dinamica poi soprattutto nell'ultimo caso occorre ricordare che le dinamiche di taglio sono state numerosissime poi anche qui nessuno può dire un coltello più coltelli non lo so come ricordare prima le sordefase bisogna stare attenti a non prendere un dato in questo caso di tecnica di laboratorio e farne poi dopo una spiegazione di tipo generale per quanto riguarda il fatto della lesione a livello del radio questo ci confortava nell'idea che si rattassero un coltello particolarmente robusto su questo diciamo è l'elemento su cui siamo stati più d'accordo sicuramente di tipo speciale non ordinario lo speciale ha portato a questa ipotesi vi diceva il professor De Fasso anche prima dire in quali termini lo possiamo qualificare come speciale nella stessura senza con questo andare a dire noi possiamo provare che e questo è la figura dell'oggetto del correttivo miglioramento del minore spreco nell'uso dell'arma da fuoco con riferimento ai vari delinei ancora questo è un discorso che per forza di cose prevede una valutazione complessiva di tutti i veriti comunque in che vorrei venisse precisato meglio in che senso anche se degli accenti sono già stati fatti per la verità però vorrei venisse precisato un po' meglio con riferimento in particolare questo discorso è stato fatto con riferimento alla zona del corpo attività oppure alla migliore mira insomma ecco credo che la De Fazio si che il problema che pone l'avvocato Firastò riflette quello che è stato per noi il problema di dire di stabilire se la diversa tipologia di sparo rinviava necessariamente a più persone o se la diversa tipologia di sparo era compatibile ugualmente con l'ipotesi ma grado la diversa tipologia di un'unica persona e abbiamo detto che era compatibile con l'ipotesi di una persona perché noi abbiamo una persona che sparava prima al torace una persona che poi sparava al capo una persona che a un certo punto ha ottimizzato le sue capacità di sparare man mano che si progettiva i diritti questo non toglie visto che dobbiamo qui appunto dare quanto più possibile una impostazione probatoria alla nostra perizia che è stata fatta ex ante e nella quale venivamo interrogati come testimone ex post cioè ex ante e prima che ci fosse ipotesi processuali e dobbiamo chiarire questo che noi abbiamo riscontrato legato nella casistica esaminate lesioni da arma da fuoco che riguardavano settori della corporità diversi di volta in volta ma dobbiamo anche tener conto e ne abbiamo certamente tenuto conto che non si trattava mica di bersagli fissi si trattava di bersagli di persone che in qualche misura poteva muoversi persone in qualche misura poteva bene malgrado questo siamo arrivati a dire che era compatibile con il fatto che lo sparatore fosse sempre una stessa persona ma vorrei che ho fatto un lungo discorso per sottolineare che questo è stato un percorso che è partito dalla possibilità che fossero più persone in quanto gli spari erano diversi si a parte l'unicità dell'arma e l'unicità delle stesse proiettili e da questo punto di vista vi è mai capitato in tutti i casi con particolare riferimento poi al caso della Fima ai tedeschi di riscontrare una pausa nell'azione omicidaria di arma da sparo vale a dire colpi sparati in successioni non rapida ma pauseggiata non vedo sulla base di quale elemento di giudizio se non in funzione la collocazione dei bossoli la la continuità o meno degli obiettivi per esempio sulla sui corpi delle vittime sul sulla carrozzeria delle macchine e via comunque non mi risulta per quanto adesso di anni siamo passati che ci sia alcun brano della relazione peritale dedicato a questo argomento cioè se fra uno sparo e un altro da parte dell'ipotetico stesso sparatore e nei riguardi della vittima ci fossero degli spazi perché vede forse nel tutto questo al massimo in un'azione programmata prima cioè se su un certo numero di autopsie si tenesse conto di questa possibilità bene forse in un'azione programmata prima dai periti i quali sanno di operare indagini neotoptiche settorie su persone che sono suscettibili di essere state uccise da una stessa persona si poteva fare si sarebbe potuta forse fare da parte dei periti una valutazione sediata dei caratteri di maggiore o minore vitalità delle lesioni di arma da fuoco ma non non si è mai grato di rispondere a questo suo cosiddetto da questo punto di vista è stata fatta voglio dire le lesioni di arma da fuoco sono tutte vitali ho capito le lesioni di arma da fuoco sono state tutte vitali cioè i periti che hanno fatto le lesioni non ci hanno dato atto che sono stati sposi e colpi verso persone che non avevano più una circolazione sanguigna per intendersi però da questo ad una sediazione dei gradi di vitalità praticamente non viene mai fatto le lesioni se non dovrebbe venire fatto in funzione di una ipotesi di una pre-ipotesi di serialità degli omicidi comunque si parla spesso di colpi esplosi in rapida successione questa è un'espressione direi quasi costante ma non è funzione del parametro della vitalità delle lesioni no funzione del setting cioè se stiamo parlando di uno che ha ammazzato un altro i colpi sono stati esplosi in rapida successione sì presidente io vorrei che venisse mostrato in particolare al professor Pierini quel coltello si è restrato nel forno dell'imputato Mario Vanni perché venisse svolta la domanda aveva già rivolto al professor Maurri circa la compatibilità eventuale di quel oggetto rispetto alle sue valutazioni ricavate da quella analisi di immagini grafiche con conferenze signor Presidente posso signor Presidente con tutto il dovuto rispetto alla Corte e il dovuto osservanza e il rispetto delle norme di legge che hanno previsto il codice di procedura per l'area che ha previsto per il pedito la figura di testimone io mi permetto di far presente che se il pedito deve testimoniare e chiamato a testimoniare qual è la situazione di un fegato in una doccia se è steatologico o meno questa è una testimonianza se il pedito viene chiamato a fare delle valutazioni come è avvenuta in quest'udienza da un punto di vista semantico e non essendo di un turista il tema di testimonianza mi sta molto stretto se poi mi si chiede di valutare in serie di testimonianza cioè di fare una valutazione su un reperto adesso io mi chiedo mi permetto di chiedere qual è l'interpretazione della testimonianza perché realmente trovo no 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 chiedo scusa io sarei proprio in linea con quello che sta dicendo il professor De Fazio come si può pretendere mostrando un oggetto a questi signori oggi i quali hanno fatto un lavoro completamente diverso che ci possano dire qualcosa se non se no mi scusi professore non voglio usare il termine delle chiacchiere cioè come possono dare alla corte e alla parte che ha fatto questa domanda delle valutazioni che assolutamente sono impossibili oggi e non abbiamo alcun elemento per dire che quello che oggi ci possono riferire ha un valore nella nostra ricostruzione io apprezzo molto ciò che dice il professor De Fazio nel dirci guardate io test di che cosa sono mi fate vedere qualcosa io sono stato perito di tutte altre cose i morti le ferite le ho viste fino al punto e le ho viste ho visto delle fotografie e ora mi fate delle domande sulla compatibilità dell'arma quindi io mi oppongo alla domanda non tanto perché sia una domanda che non è proponibile quanto è la risposta che non ha assolutamente alcuna possibilità di avere valore in questo processo mi oppongo io posso far presenso avendo una cosa che altre volte in altri periti l'arma che sta sequestrata al Vanni che non è l'arma del delitto perché almeno questo non lo possiamo dire non lo possiamo dire ora come ora e quindi se è compatibile non compatibile con certi tipi di decisione il perito Maurri ha fatto tutte le autopsie ha visto tutte le ferite il professor De Fazio ci ha detto ho assistito se non sbaglio all'ultima ma fatta da altri quindi è ben diverso fare la domanda al professor Maurri che farla ai signori fra l'altro alcuni sono dei criminologi degli psicologi allora l'avvocato Fristò cosa voleva dire? io volevo dire questo per esempio è tutto che i signori i professori che sono lì hanno giurato con la formula dei periti non farei questo e mi pare per quello che hanno già fatto per quello che hanno già fatto allora diamogli una perizia al professor De Fazio e lui se mi fa affreddare si 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 voglio dire è a parlare come dovevano fra l'altro dare il giudizio il giudizio lo può dare il perito non per il demone e poi il professor De Fazio io sono un testo ha parlato di testimoni perché in effetti può darsi potrebbe questo essere anzi è utile il professor De Fazio abbia fatto questo intervento quindi si precisa meglio nel senso secondo me nel professor De Fazio e negli altri professori sono qui in vesti di testimoni sono in vesti di periti per quello che hanno già fatto per quello che hanno già fatto in cui a un certo punto e come tale però essendo dei periti nell'ambito delle loro competenze possono secondo me essere interrogati anche su punti che hanno a che vedere non soltanto Mezzone fra l'altro non soltanto al al ristretto alvo della loro indagine che è un'indagine come lo dice il codice di tipo ma parli dopo abbia pazienza invece te lo rompermi ogni cinque minuti spende più tempo dopo lei fa nessuna osservazione su quello che dico se il presidente glielo consente ma così diventa una specie di alvo antipatico ecco ora io ho fatto questa domanda come l'ho fatta a questo maurri con riferimento all'omicidio dell'85 per queste ragioni primo perché per l'appunto con riferimento a questo omicidio dell'85 se non direttamente caricati delle indagini tipo microscopico e delle indagini tipo medico legale questi periti a differenza degli altri casi in questo caso proprio sono intervenuti anche loro direttamente assistendosi alla microscopia che a delle successive analisi svolte dai periti incaricati specificamente nel campo con questo in particolare in più che riguarda il professor Pierini il quale ha esaminato per l'appunto un aspetto di una lesione quella radio del giovane francese in cui in qualche modo ricercando in qualche modo dalla conformazione di questa ferita a stanto ricercando in qualche modo delle caratteristiche dell'arma tanto come si è visto prima pagina 60 della relazione da indicarle queste caratteristiche e indicarle in un modo abbastanza particolare già sia pure a livello di ipotesi ancora a livello di ipotesi come abbiamo un certo oggetto io credo che rientri nell'ambito di queste considerazioni facendo persino a meno di dire a loro se non è il caso possiamo anche dirglielo che quella arma sono estratta un certo imputato di questo processo bisogna semplicemente di chiedere secondo voi questo oggetto conformato così come voi lo state esaminando in questo momento può essere ritenuto compatibile rispetto a quelle vostre considerazioni fatte a suo tempo in questo modo nella vostra relazione verità la domanda di questo genere mi sembra più proprio se poi per i ci dicessero non possiamo dire né sì né no perché è necessaria una perizia in proposito allora da questo la corte ricaverà ai sensi dell'articolo 507 del codice procedura parale ovviamente delle considerazioni per quello che dovremo fare dopo perché noi qui abbiamo un certo oggetto che un certo testimone tanto per non far nome di dottor giuttali ci ha detto nascosto addirittura dentro un forno con tutte queste implicazioni suggestive relative al nascondimento all'oggetto di un certo tipo e tutto il resto abbiamo questo oggetto che sta un po' lì per aria che però può influire secondo il parere questo difensore anche nelle decisioni della corte il sesso negativo per l'imputato o positivo non lo so comunque può influire rispetto al quale nessuna considerazione di carattere medico legale per Italia è stata fatta se questi signori esaminato l'oggetto ci dicono scusi avvocato però questo coltello non viene indicato nessuna parte del processo come arma del delitto chiariamo ma allora che ci sta a fare Rosario quella è un'altra cosa c'è tante cose inutili in questo coltello ho capito ho capito però da qui a dire che l'arma del delitto se ne passa io sono benissimo che non può essere l'arma del delitto il primo a essere convinto di questo sono io ma allora che ci sta a fare perché se ne è pagato manderemo via tanta roba signor Presidente prima che si passi all'altro vorrei chiarire una cosa il chiarimento che va fatto è questo noi non abbiamo anche ritengo che la valutazione che noi la valutazione le indagini che noi abbiamo impostato sul piano della cosiddetta realtà virtuale abbia tenuto esclusivamente conto dei verbali di autosia dell'ultima perizia cioè nessuno di noi ha partecipato cioè io sono ho partecipato al sopralluogo chiamato dal pubblico ministero con alcuni dei miei collaboratori all'indomani mattina mi sono recato all'abitorio mentre il professor Mauri e altri facevano docce ho dato uno sguardo che mi interessava la problematica generale punto e basta perché a un certo punto non eravamo stati noi personalmente incaricati nel compito di svolgere quindi noi non possiamo assolutamente ma non per un fatto formale anche per un fatto sostanziale riferire nulla che riguardasse l'esame del cadavere perché l'esame del cadavere non è stato a noi demandato cioè non quello di sopralluogo per vedere posizione quindi era un etnimo per chiarire perché se no si dava per scontato che non avessimo partecipato alle operazioni per i tali nell'ultimo caso non avevamo veste né incarico per farlo ma se anche l'avessimo fatto evidentemente il dato che i dati che avremmo raccolto infatti quando siamo andati a dire era per vedere un esame generale delle vittime ed è il dato dell'esilità in generale e non certo qualcosa di particolare che potrebbe essere riguardare l'uso dell'arma noi invece abbiamo omologato i dati raccolti i dati in tutti i verbali per fare la rivoluzione delle quali ha parlato Presidente io volevo sostanzialmente attenermi alla valutazione che ci ha fatto il perito Professor De Fazio noi abbiamo fatto una perizia su alcuni fatti quindi oggi non avendo alcuna possibilità di dire niente come testi su quei fatti su coltelli o altri elementi l'unica strada se ci fosse a parere del PM è quella di fare una perizia se del caso io perizia se si devono fare perizia ex 507 decida pure la Corte però mi oppongo formalmente e fermamente a che come giustamente ha fatto notare il Professor De Fazio sia chiesto a questi periti del PM per fatti diversi valutazioni su elementi sui quali assolutamente non hanno la possibilità concreta di illuminare niente alla Corte primo perché non hanno assistito alle autopsie come ci ha spiegato il Professor De Fazio secondo perché questo coltello lo vedrebbero ora e quindi se una domanda va fatta va fatta ex 507 o è ammissibile io su questo sono remissivo però non certo sulla domanda o sul mostrare coltelli a questi periti le altre parti Presidente scusi una cosa l'Avvocato Polaro buongiorno signor no no su questo punto su questo punto ho dato buongiorno dicevo per quanto riguarda Presidente i lavori fatti dall'equip del Professor De Fazio questi sono stati di fedezza molto accurati perché dagli elaborati si evince e dalle figure 65 66 che anche se non sono in scala la famosa piramide non è in scala però che è stato fatto un lavoro sull'osso sul radio della ragazza quindi quell'impronta stacco è di un'importanza determinante quindi non si può passare oltre senza fare vedere quelle armi bianche che del resto furono fatte vedere già precedentemente ora ci troviamo di fronte a periodi qualificati io mi riferisco al Professor Terini il quale ha fatto un lavoro di tutto rispetto accurato d'intuito ha seguito delle tracce non le abbandonate e quindi vi va a dire qui siamo per ricercare la verità da qualunque parte debba venire non ci importa se sia il coltello o sia un'altra cosa se sia quello o quell'altro ma se e se qualora fosse ma abbiamo però non tante titubanze come era prima mi, na e su e giù e quindi si può essere ma dovremmo avere una risposta ben precisa quindi in questo dico la verità mi associo col collega finale lei dice anche fagli vedere anche il trincetto e anche i miei colleghi devono essere fatte vedere anche ora lei parla anche del trincetto anche del trincetto certo Presidente su cui in controesame mi soffermerò ancora per l'interroga controesaminare il professor Pedini perché devono vi dire ancora l'avvocato l'andai ma signor Presidente questo rispettabilissimo collegio per Italia in pratica ha già risposto alle istanze alle ansie giustissime fra l'altro dell'avvocato Filastogio e cioè nel senso che ha risposto di non poter rispondere quindi noi stiamo perdendo ancora una volta tempo Presidente la stessa domanda sulla compatibilità fra l'arma sequestrata al vanni e la morfologia delle ferite è stata già fatta al professor Maurri giustamente il professor Maurri ha risposto sulla compatibilità professor si lasciamo stare la mia opinione personale cioè dico questo che le domande non è che in un processo penale in un dibattimento si possano fare tutte le domande possibili immaginarie proprio al fine della ricerca la verità vanno selezionate le domande in conferenti impertinenti suggestive e fra l'altro anche inutili come in questo caso da quelle effettivamente conferenti ed utili le stesse domande sono state fatte a quel perito che ha fatto tutti gli esami autottici e di conseguenza voler ritornare sulle stesse domande di fronte a un collegio il quale ha già detto di non poter rispondere mi sembra assolutamente inconferente e inutile siamo diversamente improntati perché la ferita sullo stampo è a stampo un dato di tempo e insomma Urri ha detto che lui non si poteva pronunciare perché non aveva esaminato l'osso altre parti nessuno bene avvocato perlegrini ritiene più semplice più concludente porre la domanda sentire la risposta e andare avanti sono l'avvocato io credo che in questo caso sia abbastanza chiaro a difesa da testimone e perito il nostro ordinamento non è come l'ordinamento inglese il consulente tecnico il perito va su un tema specifico che è stato opposto su questi temi non sono stati posti di pro temi di pro non sono stati posti e quindi secondo me non è esatto fare questo genere di domande a questi consulenti temici quindi mi associo comunque al pubblico ministero in ordine opportunità eventualmente di fare una perizia 506 grazie a tutti Grazie.